Adesso vediamo gli altri colleghi, vediamo questo pino, se mi hai detto bene, 7FXH, qui Italia 4, Whisky, Charlie, Kilometro, Claudio, la provincia di Bologna. Il K-5, Giro, Mario Cane, ho capito, ho capito solo il K-5, ti darò l'ingresso, però ripesoito, ho spettato, riprendo l'Italia Sordo di Francia, Psalm 3, non è la collettiva, la località, Brigiano, alcuni chilometri che si debba rimanere. Siamo arrivati fortissimi qui a mare, 5-9, tranquillo, sicuro e potente. Per quanto riguarda il 2BDQ, io ho uno che avrà una quarantina di anni, credimi. Veramente vecchio, va sempre in gamba, è tutto un filo, vabbè, unico, non è troppo sola, il lega d'aluminio, con i bovinoni veramente enormi. Ma io mi trovo benissimo, sebbene avevo sempre prodotto il gatto di palo, è molto antitrito, ma avevo un po' di problemi sul terrazzo con tutti questi fili. Questo di palo l'avevo acquistato tantissimi anni fa, l'avevo tenuto solo per un certo periodo e poi l'avevo porto, ma non perché non andasse bene, ma per altri motivi. L'avevo messo solo alcuni anni fa e funziona veramente bene, praticamente il 40 è fantastico. In 80 chiaramente il postetto di gamma, ma...